La lotta al tumore al seno è una priorità sanitaria della Commissione europea in quanto è il più diffuso tra le donne, rappresentando il 29% di tutti i tumori. Nella provincia BAT, nell'ultimo triennio, sono stati registrati quasi 700 nuovi casi. Il tema è stato approfondito in una conferenza organizzata dall'Associazione Nazionale Tecnici Sanitari di Radiologia Medica Volontari di Andrea. Ascoltiamo. È possibile sapere in tempo per la guarigione di avere un tumore? La ragione è che noi siamo qui stasera. Parlare di prevenzione per la lotta al tumore è una priorità della Commissione europea e lo vogliamo trasmettere anche dando informazioni alle donne sul modo di prevenire la possibilità di incorrere in un tumore al seno. Ogni quanto si dovrebbe fare prevenzione? La prevenzione bisogna farla sempre. Già informare è prevenzione. Nel caso specifico del tumore al seno, c'è uno studio regionale che ha di nuovo iniziato un centro screening per la mammografia che però copre solo le donne di età da 50 a 69 anni, dove si è rivelato la più alta incidenza del tumore al seno. Grazie. Grazie.